Devo fare adesso però un saluto speciale a un mio amico che ha sette anni, si chiama Federico e di Lauria. Allora, caro Federico, sappi che io ti ho scritto, prego per te e so che tu in questo momento sei molto vicino a Gesù, perché insieme a Gesù hai condiviso con lui le difficoltà, la sofferenza. Ma lui, Gesù, è molto vicino a te e io prego la Madonnina che ti aiuti tanto. Un bacio a te e ai tuoi genitori. Ciao Paolo.